Giulianova è sotto shock dopo la tragica morte della donna di 40 anni originaria di Chieti, deceduta ieri dopo essere stata investita da un'auto guidata dalla figlia 14enne. I drammatici fatti accaduti nel pomeriggio di ieri hanno colpito l'intera comunità giuliese mentre saranno ora le indagini a chiarire quello che è accaduto. È stata nel frattempo disposta l'autopsia sul corpo della donna per accertare con esattezza in seguito a quale trauma è sopraggiunta la morte. I carabinieri della compagnia di Giulianova diretti dal maggiore Vincenzo Manzo tramite alcune testimonianze stanno ricostruendo l'accaduto anche dei minuti precedenti. La tragedia, questo il ricordo del datore di lavoro della donna e di una collega. Collaborava con noi, saltuariamente difficile da spiegare certo, difficile da spiegare perché il dolore profondo e silenzioso quindi tutta la comunità giuliese si avvicina alla famiglia della signora. Quando era stata da voi a lavorare per l'ultima volta? Per l'ultima volta è stata appunto giovedì sera fino alle ore 21. Una donna sempre disponibile? Sempre disponibile, vicino a tutti e è una brava mamma, veramente una brava mamma. La signorina era una collega della signora scomparsa ieri, il suo ricordo qual è? In realtà tornare dopo al lavoro è un po' difficile perché qualsiasi cosa ti ricorda di lei ormai lavoriamo insieme da un po' quindi vuoi non vuoi ti affezioni, si crea un legame e anche perché noi tra di noi, tra noi colleghi, instauriamo proprio un rapporto quindi è un po' difficile. Dove ti giri la rivedi diciamo, quindi è un po' difficile. Ricordo che più degli altri possiamo dare per questa donna. Guarda, la cosa che mi fa un po' più male è che il giorno prima, era il giorno prima di San Valentino ha trovato delle formine a forma di cuore e mi ha detto domattina fai i tramezzini a forma di cuore. Io la mattina li ho fatti e poi il pomeriggio quando ho saputo la notizia rivederli è stato un po' brutto. Quindi questo è quello che dava sempre delle idee. È difficile, guarda, davvero.